sarebbero state rintracciate per la prima volta le tracce del mitico o meglio straordinario animale ieti nel campo base del makalu è la più alta vetta del mondo per la precisione la quinta più alta e l'esercito indiano ha voluto compiere la voglia o meglio ha voluto compiere la cosiddetta scalata ed ecco che per l'appunto tra diversi followers ci sono state delle reazioni in buona sostanza sarebbero state trovate ripeto per la prima volta da parte di una spedizione militare in alta montagna le impronte del famoso animale ieti precisamente parlando ripeto nel campo base del makalu a informarci di ciò un account su twitter che ha riportato esattamente che c'è stato questo chiamiamolo ritrovamento vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto un caro salutone da narratore italiano